Musica Sulle fonti tv l'appuntamento mensile con parola al direttore, bentrovati a tutti voi, naturalmente dalla redazione di Libero in compagnia del direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri. Direttore bentrovato. Grazie e un saluto a tutti. Io volevo cominciare questa chiacchierata chiedendoti direttore un voto al governo Draghi, perché? Per due motivi. Intanto perché la volta precedente ci siamo proprio lasciati con un giudizio sospeso al governo di Mario Draghi e poi vabbè perché prendo spunto anche da qualcosa che leggo su Libero, si parla delle riaperture che vanno un po' a rilento, quindi a conti fatti. Il virus ancora non è scongiurato al 100%, però la situazione sembra migliorare, il governo sembra un po' più latitante. Che voto diamo a Draghi e perché? Mi pare che rispetto a un mese fa la situazione non sia di molto cambiata, quindi siamo ancora in una fase di stallo. Draghi, poverazzo, fa quello che può con una maggioranza che conosciamo, che è composita, litigiosa, perché far andare d'accordo Salvini con il PD mi sembra un'operazione piuttosto complicata e in effetti non c'è accordo. Quindi ciascuno dice la sua. A volte le critiche che vengono fatte dagli stessi partiti della maggioranza sembrano fatte dall'opposizione. Insomma, la politica non è che sia brillante in questo periodo. Forse l'unica che se la cava, anzi sicuramente se la cava è proprio la Meloni perché è fuori dalla maggioranza e poi è una donna molto solida per cui sta crescendo a dismisura con il suo ex partitino che ora è diventato un partitone. Mentre per Draghi la situazione è complicata perché è facile dire apriamo tutto, poi però ci sono i tecnici, i virologi, c'è tutto un movimento di opinione qualificata che sconsiglia di aprire Tukur. E questo naturalmente frena anche Draghi. In sostanza non ravviso una differenza sostanziale tra il governo Conte e quello di Draghi, almeno per il momento. Dopodiché dobbiamo anche dire che Draghi è stato un grande bancario da ragazzo, poi è stato un grande banchiere, però non ha mai fatto il governante. E se uno è anche bravissimo a suonare il violino non è detto che sappia suonare anche il pianoforte, mentre Palazzo Chigi è il pianoforte e le banche suono il violino. E quindi dobbiamo anche comprendere il poverazzo. Insomma sembrava la soluzione di ogni problema, invece non è affatto la soluzione di ogni problema. Vediamo poi se invece nei rapporti con l'Europa, secondo te direttore, è cambiato qualcosa, però starei ancora sulla politica di casa nostra. Tu in realtà hai usato delle parole anche più dure per giudicare tutti i partiti alla maggioranza, fatta eccezione per Meloni che è all'opposizione come hai ricordato tu. Hai detto che sono, se non ho letto male in una tua considerazione, dei dilettanti allo sbadiglio, proprio perché sembra quasi che indipendentemente dal virus ci sia un caos politico ancora più evidente. Perché allo sbadiglio? Beh, allo sbadiglio perché praticamente sono ripetitivi, dicono sempre le stesse cose e non ne fanno molte, anzi sono molte le parole ma i fatti sono pochini. Quindi ci fanno sbadigliare, ripetono sempre le solite fregnace e questo non si può negare. Dopodiché mi rendo conto che la situazione è difficile, però per esempio l'Inghilterra con Jones si è comportata in un modo ben diverso, anche perché l'Inghilterra avendo ottenuto la Brexit si è sganciata dagli artigli dell'Europa, fa come le garba e i risultati si sono visti. Perché l'Inghilterra ha ricominciato non a camminare ma a galoppare. E invece noi siamo legati a quest'Europa che la consideriamo la mamma dalla quale non ci si può separare e invece purtroppo è un agglomerato anche lì di gente mediocre che bada più alla burocrazia che ai problemi sostanziali. Ecco che siamo arrivati ai due temi che volevo proprio affrontare con te. Modello Johnson, tu hai parlato anche di questo, Boris Johnson, tu ovviamente sappiamo tutti, ti conosciamo, non sei minimamente politicamente corretto. E tu hai anche detto che Johnson, indipendentemente dal fatto che la Gran Bretagna sia uscita dall'Unione Europea con la Brexit, è proprio il classico esempio di leader non politicamente corretto che riesce a ottenere quello che vuole. In Italia sembra esserci però una situazione proprio diversa, il problema è che siamo lontani da quel modello, ammesso che poi potrebbe funzionare per l'Italia, io ovviamente non lo so. Sì, è verissimo che il modello inglese è diverso dal modello italiano, però i modelli li fanno gli uomini, quindi se gli inglesi hanno fatto un modello che funziona io non posso che applaudire. Il nostro modello invece purtroppo non funziona e quindi è chiaro che non posso che essere critico, ma intendiamoci, le mie critiche non sono né violente né definitive, però sono osservazioni che si basano proprio sulla realtà, purtroppo basta vedere come abbiamo fatto con i vaccini, non riusciamo a comprarli, l'Europa non ce li fornisce, sono sempre numericamente inferiori a quello che sarebbe opportuno e sarebbe anche decisivo per il Paese. Siamo ancora lontani dall'immunità di gregge e anche questo ci deve far riflettere, ma questi vaccini basta andare sul mercato internazionale con i soldi in tasca, li compri e li porti a casa, noi dobbiamo dipendere dall'Europa, mi sembra un paradosso. Infatti per esempio, altro titolo che leggo su Libero, AstraZeneca va bene ma adesso l'Europa non lo vuole in più, è stato proprio interrotto e quindi insomma rischiamo in un momento in cui effettivamente si è vista questa accelerata, sui vaccini rischiamo di fare un passo indietro? Sì, non capisco perché questo AstraZeneca non possa essere utilizzato, è stato utilizzato, non ha provocato disastri, non è assolutamente vero che sia letale, come qualcuno erroneamente ha scritto, quindi andava incrementato l'acquisto, invece niente, non si compra più, quindi avremo meno vaccini sui quali contare. Anche perché abbiamo parlato della Gran Bretagna, in Gran Bretagna per esempio AstraZeneca è stato usato per la maggior parte della popolazione. Sul fronte dei vaccini però Draghi nel suo rapporto con l'Europa, indipendentemente dal suo ruolo interno all'Italia da Presidente del Consiglio, da questo punto di vista sembra però che sia riuscito a ottenere qualcosa sul fronte dei vaccini, per esempio con un polso, ben fermo, ha accelerato su tutto il processo dei vaccini, cosa ne pensi? Sì, va bene. Forse perché Draghi ha una fama in Europa di un certo tipo. No, diciamo che Draghi è rispettato in Europa, ma i vaccini non è riuscito neanche lui a comprarli, se non in quantità insufficienti. Questo però succedeva anche prima, solo che all'inizio l'acquisto dei vaccini era più difficoltoso perché la produzione dei medesimi era inferiore rispetto ad adesso. Però io non voglio dare delle colpe particolari a Draghi, ma come dicevamo prima, il modello italiano che dipende dall'Europa in tutto e per tutto è un modello debole, molto fragile. Adesso anche noi avremo questi quattrini che arriveranno dall'Europa, che mi pare siano 200 euro. Il recovery fund, sì. Non capisco perché si devono sempre usare dei termini in inglese che poi sono imperfetti. Piano di recupero, lo chiamiamo così, meglio. Però non è che sono soldi che qualcuno generosamente ci regala, sono prestiti. Io quando faccio un debito, a parte che non faccio debiti, ma se dovessi fare un debito non canterei vittorie ma piangerei perché fare un debito non mette allegria, secondo me. Poi come faremo? Come faremo? Come li investiremo? Certo. Io temo molto che saranno soldi buttati via, come spesso è accaduto in Italia, che si fanno degli stanziamenti e poi quegli stanziamenti non vengono utilizzati o vengono utilizzati fra dieci anni. Intanto il paese è in vecchia, non sia moderna. Tutte queste cose poi incidono sulla salute pubblica. Salute intesa non tanto come problemi fisici, ma proprio avere un'efficienza pubblica. non l'abbiamo. Certo, in Italia non mancano le idee, manca proprio la velocità nell'eseguirle, ma perché? Perché abbiamo ancora tutta una serie di riforme ferme lì. La riforma della pubblica amministrazione, la burocrazia che deve essere snellita, la riforma della giustizia, visto che poi c'è anche tutta la polemica sulla magistratura, di cui giustamente anche tu ti sei occupato. Il problema è che ci sono proprio degli ostacoli di base nelle fondamenta, un po' come costruire una casa bellissima ma che poi crolla nelle fondamenta. Il problema è esattamente questo. Noi continuiamo a parlare di riforme, esiste anche un giornale che si chiama Il Riformista da parecchi anni, peraltro. Insomma, tutti i politici si sciacquano la bocca col termine riforme, 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 ma io non ne vedo mai una che non sia peggiorativa della situazione vigente. E questo naturalmente ti fa perdere ogni entusiasmo e ogni fiducia. La riforma della giustizia, io ne sento parlare da 30 anni, ma nessuno mai è riuscito a farla. Nel frattempo la magistratura si è un po' lasciata andare. Io fra l'altro di queste vicende dei giorni nostri non ho capito niente, e ho confesso, mi sfugge il nocciolo della questione, però non mi sfugge per esempio che molte sentenze sono veramente fuori un po' dalla logica e quindi non si può non criticare l'azione dei magistrati, più che litigare tra loro, si accusano a vicenda. Poi quando si tratta di fare dei processi, magari si fanno dopo 25 anni, come ho letto anche in questi giorni, insomma questo dimostra che siamo veramente fuori da ogni logica. Certo, per non parlare della riapertura dei casi dopo tanti anni, quindi con faldoni che vanno a bloccare altri processi. Ma poi una cosa è successa 25 anni fa, come fai a ricostruirla in modo... Sì, è paradossale che non si sia riuscito a ricostruirla subito, se si vuole ricostruire dopo 25 anni. È ridicolo. Ma anche questa ragazzina, bambinetta che è scomparsa a Mazzara del Val, lo vedo non so quant'è, 17-18 anni fa, anche lì adesso tutti parlano di questa cosa. Ma dico, ma dopo 17-18 anni cosa pensi di poter scoprire? Niente, è tutta una chiacchiera, è tutto un avvoltolarsi su se stessi. Sì, sembra quasi, poca praticità e tanto spettacolo, spesso purtroppo lamentiamo questo. Spettacolo disgustoso. Spettacolo disgustoso, assolutamente, perché ne va della pelle, della vita di persone, assolutamente. Una domanda ancora sulla politica che però ci porta alle amministrative, quelle più importanti, Roma-Milano, ci sono queste due piazze, si sta cominciando a parlare ovviamente in vista della campagna elettorale. A Roma l'ex presidente del Consiglio Conte appoggia Virginia Raggi e poi per il PD si candida Gualtieri, invece a Milano ancora si brancola un po' nel buio. Che dire, sono latitanti anche lì i politici? Ma il fatto che a Roma si riproponga la Raggi è un sintomo di decadenza senza freni, perché lo sanno tutti che i romani sono scontentissimi dalla Raggi, basta dare un'occhiata alle strade, c'è pieno di spazzatura, di rifiuti, che nessuno riesce a smaltire per un semplice motivo, che a Roma non esistono i termovalorizzatori, cioè gli inceneritori. Ecco, allora tutta l'immondizia viene trasportata all'estero per essere eliminata, distrutta e questo comporta anche dei costi mostruosi. La città è sempre sporchissima e quindi la Raggi, poverazza, non è stata in grado di sistemare le cose, ma anche per altri aspetti la Raggi ha fallito. Riproporla significa perdere per il Movimento 5 Stelle, anche perché il Movimento 5 Stelle in seguito alle polemiche interne ha perso consistenza, quindi lì non ce la farà. Adesso fanno il nome di Gualtieri e quello potrebbe anche riuscire a fare qualche cosa. Il centro-destra non ha alcun candidato, come sempre, e quindi non si possono fare delle previsioni se manca il candidato. Per quanto riguarda Milano, devo registrare una cosa anche ridicola. Io stesso avevo suggerito di riproporre Gabriele Albertini, che è stato un grande sindaco come a Milano, lo sanno tutti. Se parli con qualsiasi milanese, dice che quello era un sindaco vero, che ha fatto cose ottime per Milano, ha reso una città tra le migliori d'Europa. Invece, non so per quale motivo, Albertini non è stato accolto come avrebbe meritato. Per cui Albertini si è un po' giustamente seccato e si è ritirato, ritirato prima di candidarsi. Allora, se noi, se diciamo il centro-destra, che potenzialmente con Albertini vincerebbe facilmente a Milano, invece, non avendo Albertini, non ci sono candidati alternativi che siano affidabili e pertanto Milano tornerà alla sinistra, resterà alla sinistra, dopodiché il centro-destra perderà anche la regione, come sappiamo è stata travolta da mille polemiche e quelli di centro-destra si devono rassegnare alla propria imbecillità. Quindi colpa della destra e non dei meriti della sinistra? I meriti della sinistra ci saranno, ma io non li vedo, però siccome la sinistra ha dei candidati che tutto sommato sono conosciuti, perché Sala, io non lo sopporto per via delle ciclabili di mille altre iniziative che non condividono, però invece c'è gente che ama le ciclabili, ama i monopattini e quindi questi voteranno per Sala. Faccio dei ragionamenti terra a terra, non è filosofia politica. Anche perché per oltre un anno abbiamo parlato solo di Covid, quindi adesso bisogna un attimino riprendere il contatto con altre problematiche. Ci avviamo verso conclusione, però mi viene ancora una domanda da farti, direttore. Visto che abbiamo parlato un po' della crisi della politica in questo momento, abbiamo assistito a un episodio che ha suscitato un po' di polemiche, quello che ha visto il protagonista Fedez, il rapper, perché ha preso posizione, a partire dal DDL ZAN, anche questo è centrale nelle discussioni politiche, ha fatto nomi, cognomi di politici proprio per puntare il dito, però tutti hanno seguito Fedez, è diventato quasi un punto di riferimento politico. Io unisco i due aspetti, dovrebbero essere i politici a dettare in qualche modo la direzione. Sì, però se è un uomo di spettacolo a fare un discorso politico è fatale che ci sia una ricaduta sulla politica, ma questo mi sembra del tutto normale, non è che mi scandalizzi questa cosa così, ma non mi scandalizzi il fatto che uno come Fedez dica quello che pensa. Se lo invitate a una manifestazione pubblica, gli mettete in mano il microfono, è chiaro che lui ha il diritto di dire quello che vuole, quello che pensa, senza concordare i suoi discorsi con la RAI per esempio. Quindi io non ho nessun rimprovero da muovere a Fedez, naturalmente io non la penso come lui, ma questo cosa vuol dire? Ognuno dice la propria, non è che è obbligato a pensare come me, come io non sono obbligato a pensare come lui, però sono convinto che abbia il diritto di dire quello che vuole. Se poi quelle sue dichiarazioni vengono amplificate attraverso i mezzi di comunicazione, la colpa non è certo di Fedez, ma dei mezzi di comunicazione. Pippo Baudo ha detto che ne avrebbe spento la telecamera, non so se hai sentito, io se fossi stato la RAI avrei spento, però insomma… Sì, ma intanto Pippo Baudo è siciliano e certi metodi siciliani, lui li ha evidentemente li ha introiettati, quindi… ma noi non siamo in grado così di esercitare una censura nei confronti di nessuno. Esiste o non esiste il libero pensiero? Esiste o non esiste la libertà di stampa? E allora usiamola senza romperci le scatole a vicenda. Senti, ultimissima cosa che poi serve un po' a stemperare le tensioni, se mai ce ne sono, però insomma abbiamo parlato di cose importanti. Hai sentito a proposito di politicamente corretto di Biancaneve e del bacio del Principe Azzurro. Sì, sì. Ecco… Io, già mi hanno fatto questa domanda, ho risposto che Biancaneve era una zoccola che si è fatta sette anni addirittura. Quindi poco cambiava il bacio del principe. Poco cambiava. Che poi l'ha salvata, però anche lì dicono ma le donne si devono salvare da sole, non con gli uomini. Sì, ho capito, ma quella è una favola. Peraltro, voglio dire, tutti l'abbiamo ascoltata, non pensa io che non sono così romantica, quando ero bambina mi è piaciuta ascoltare la favola di Biancaneve, mi dico, toh, esiste il Principe Azzurro. Pur di non studiare, io vedevo anche quelle schifezze lì. Però vedi, Principe Azzurro in realtà sono stata continuamente disillusa da questa cosa, anche con te, perché alla fine non siamo ancora riusciti a concretizzare, a coronare la nostra storia d'amore. Ebbene, ma lì il Covid ci ha veramente ammazzati. E quindi niente, non esiste il Principe Azzurro, Vittorio? Non so, azzurro magari no, però… Verde? Verde magari… Va bene. Bisogna ripiegare. Va bene. Grazie Vittorio Feltri. Grazie. La prossima volta cerchiamo, visto che abbiamo ancora impendi in queste cose del virus, di capire un po' l'Italia, insomma, l'immagine dell'Italia come potrebbe… Guarda, con una battuta si può dire che cambierà tutto quando avremo fatto tutto il vaccino. Il vaccino. E il vaccino diventerà una pillola che, come usa con il vaccino anti-influenzale, si fa regolarmente e dopo di che nessuno si spara dalla paura in testa. Insomma, io credo che andranno così. E da lì ripartirà anche l'economia, le attività, perché per ora ancora presto… Senza salute, senza salute garantita, l'economia non può che zoppicare. Certo. Grazie direttore Vittorio Feltri dalla redazione di Libero. Alla prossima puntata. Grazie.